ciao benvenuti bentornati oggi faremo insieme un fluo morbido con tante torsioni con un po di torsioni che sono sempre utili sia per il nostro fuoco digestivo ma anche per mantenere la nostra colonna vertebrale è giovane flessibile e in salute ci potrebbero essere utili due blocchetti yoga o due libri rigidi più o meno di queste dimensioni mettili da parte ok e cominciamo subito ci portiamo nella nostra posizione comoda seduta inspirando distendi la schiena visualizzi la colonna vertebrale che si allunga verso l'alto anche il retro del collo si distende e poi espirando lasci andare l'aria dalla gola rilassi le spalle chiudi gli occhi per qualche istante visualizzi il tuo respiro lungo la colonna vertebrale respiro pieno ma mai forzato leggero morbido ruota i palmi delle mani verso l'alto e con la prossima inspirazione sollevi le braccia unisci palmi delle mani oltre il capo distendi bene la schiena ai lati del busto ed espirando mani al cuore inspiri sollevi espirando torsione destra in ritorni al centro espiri torsione a sinistra espirando mani al cuore e ancora inspiri sali espiri a destra in al centro espiri a sinistra in al centro stai espirando mani al cuore sciogli la posizione delle gambe portando i piedi aperti come i fianchi le ginocchia piegate le mani sulle ginocchia e da qui inspiri attrai le gambe verso di te stendi la schiena ed espirando allunghi le tue braccia in avanti arrotondi un pochino la schiena mento al petto quindi fai una piccola anche retroversione del bacino inspiri agganci le ginocchia sali le attrai verso di te così da venire in avanti con il petto e di stendere la schiena espiri allunghi arrotondi mento al petto e lo fai qualche volta iniziando anche ad attivare l'addome cambiamo qualcosina inspiri attrai le gambe verso di te stendi la schiena vieni in avanti e questa volta espirando ti inclini semplicemente indietro sollevi le gambe in un'ardana vasana quindi con le tibie parallele al suolo e poi ancora piedi giù inspiri avanti espiri attivi l'addome ti concentri ardana vasana e ancora puoi rimanere in ardana vasana o provare a distendere le gambe e fluisci tra questi due spazi tra queste due forme con calma senza fretta segui il tuo ritmo il tuo respiro clavicole aperte petto aperto che sorride e poi incroci le caviglie passi in avanti posizione quadrupedica gatto mucca inspirando in archi la schiena apri il petto e espiri arrotondimento al petto continua questo movimento inspiri espirando arrotondi la schiena balasana glutei sui talloni fronte a terra un paio di respiri qui con la prossima inspirazione snoccioli la colonna e ti porti seduto sui talloni andando ad aprire un pochino la distanza tra le ginocchia da qui la mano destra va dietro il gluteo destro sei in una torsione verso destra inspirando allunghi il braccio sinistro e lo puoi flettere a cactus aprendo il petto espirando ti allunghi in avanti passi dal centro e la mano sinistra va dietro al gluteo sinistro e stessa cosa apri il petto fletti il braccio destro a cactus e continui da un lato e espiri al centro in puoi continuare in questo modo oppure la prossima volta inspiri puoi premere il bacino avanti aprire un pochino di più il petto e ritorni con il gluteo a terra passi dal centro e fluisci in questo ustrasana danzante cammello danzante morbido ritorni seduto sui talloni e poi lentamente ti riporti in posizione quadrupedica punti le dita dei piedi dietro premi con i palmi delle mani la terra lontano attivi l'addome e stacchi un pochino le ginocchia lo sguardo è tra le mani collo lungo e da qui vai mantenendo l'addome attivo semplicemente a portare il ginocchio sinistro a sfiorare terra e poi ritorni su e poi il destro e lo fai qualche volta con controllo il ginocchio il ginocchio sfiora terra e poi ritorna su e l'altro e su uno e su e due e su forti i quadricipiti forte l'addome resta anche un pochino nello sforzo lo accogli e poi ritorni con entrambe le ginocchia un pochino sollevate da terra cane a faccia in giù e qui pedali la posizione fai tutti i movimenti che ti servono e poi e qui pedali inspirando pieghi le ginocchia guardi tra le mani e con uno più passi porti i piedi tra le mani Ginocchia piegate quanto ti serve, abbandoni giù la testa, i piedi sono paralleli, aperti come i fianchi e inspirando Ardha Uttanasana stendi la schiena e spiritorni giù, ancora due volte. Inspirando, snoccioli una vertebra dopo l'altra, lo fai lentamente, ti godi questo srotolamento e poi espirando ruoti le spalle indietro e ci ritroviamo in Tadasana. Mani al cuore, piedi aperti come i fianchi, inspiri, sollevi le braccia, ti allunghi verso l'alto e espirando ti fletti in avanti Uttanasana. Piega le ginocchia quanto ti serve, qui potresti usare anche i blocchetti sotto le mani, inspirando stendi la schiena, polpastrelli a terra o su dei blocchetti, quindi va benissimo l'opzione blocchetto per avere un pochino di spazio in più, se ne hai bisogno, ok, da qui fletti un pochino di più il ginocchio sinistro rispetto al destro, i polpastrelli della mano sinistra sono sul blocchetto davanti al piede sinistro o a terra e inspirando ruoti il petto verso destra sollevando il braccio destro su, quindi siamo in una torsione verso destra e poi espiri, ritorni giù, la mano destra a terra sul blocchetto, ginocchio destro si piega un pochino di più, inspiri, apri a sinistra, lo facciamo inspirando e ritorni. E continui questo movimento, lo fai qualche volta da un lato e dall'altro, respira profondamente. Ti fermi al centro e poi pieghi un pochino di più il ginocchio sinistro, inspiri, apri a destra, stai. Da qui il piede sinistro si stacca da terra e fa un lungo passo indietro. La mano sinistra magari deve indietreggiare e andare all'altezza più o meno del piede destro. Quindi siamo in una torsione verso destra, tutto il corpo è attivo, ginocchio sinistro a terra, attrai la terra verso il centro con l'interno delle cosce e sali in una torsione verso destra con le tue braccia aperte. Il sacro scende e c'è questa bella attrazione dell'interno delle cosce verso il centro del tappetino. Con l'inspiro il braccio destro ti guida con un movimento, con un mezzo cerchio in avanti e sollevi le braccia guardando di fronte a te. Espiri torsione a destra e ancora in avanti. A destra, espirando ancora due volte. Inspiri avanti e espirando mani a terra all'interno del piede destro e porti il piede destro verso la linea esterna del tappetino per avere più spazio. Accompagni il bacino in avanti e verso il basso, stendi la schiena, apri il petto, anche qui potresti portare le mani sopra dei blocchetti yoga. Inspirando porti lo sguardo oltre la spalla destra, indietro, quasi come se volessi andare a vedere verso il retro del tappetino. Inspirando, ritorni in avanti e stendi la gamba destra in un'arda anuman. E lo fai ancora. Inspiri, avanzi, il bacino scende, sguardo oltre la spalla destra. Questa volta espiri mettendo un sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Mani forti a terra, passo indietro tavola, sostiene un istante la posizione, addome forte, retroversione del bacino, cane a faccia in giù. Ti stiracchi qui, stendi bene la schiena, premi bene con i palmi delle mani contro terra. Pieghi un pochino le ginocchia, guardi verso le mani e poi cammini le mani verso i tuoi piedi. Da qui porti il piede sinistro dietro e oltre il destro piegando entrambe le ginocchia, abbandoni la testa, fai qualche sì, qualche no e poi lentamente con la prossima ispirazione richiami l'ombelico verso la schiena e sali. Una vertebra dopo l'altra. Magari apri un pochino di più la distanza tra i piedi, cioè fai un passetto ancora di più verso destra con il piede sinistro. E con la prossima ispirazione fai salire il tuo braccio sinistro su ed espirando ti fletti verso destra. Aprendo tutto il costato sinistro. Ginocchia morbide piegate, un pochino piegate, inspiri ed espirando ritorni giù. Avvicini il piede sinistro, quindi lo riporti un pochino più vicino al destro ma sempre dietro, quindi hai la gamba destra davanti alla sinistra. Ginocchia piegate quanto ti serve, da qui cammini con le mani avanti per entrare in una tavola, ma siamo con la gamba destra davanti alla sinistra. E poi ruoti verso sinistra entrambi i talloni, la mano sinistra ti sostiene e sei in vassi stasana, con il piede destro davanti al sinistro. Il taglio esterno del piede sinistro preme bene contro terra. Puoi sempre modificare la posizione portando il ginocchio sinistro a terra e trovare Arda Mandala Asana. Ora da qui, forte l'addome, sollevi, se vuoi provare, altrimenti trovi il tuo modo, il ginocchio destro, la gamba destra, portandolo verso di te. Guardi verso l'inizio del tappetino e un po' a rallentatore, con controllo fai un passo col piede destro in avanti. Ok, potresti sempre andare nel cane a faccia in giù, sollevare la gamba destra e fare il passo avanti, quindi trova pure il tuo modo. Piede sinistro a terra a 45 gradi, inspirando sali in virabhadrasana a 2, secondo guerriero. Espiri, atterri nella posizione. Inspirando ti inclini indietro, guerriero inverso, ed espirando porti il gomito destro a toccare il ginocchio destro. Inspiri, ti inclini indietro, apri. Espiri. Ancora 2. Con la prossima inspirazione stendi anche la gamba destra, ti fletti indietro, apri il costato destro, espirando trigonasana, allunghi entrambi i lati del busto verso destra e trovi la posizione del triangolo. Angolo. Sguardo al piede destro, mani a terra, passo con il ginocchio sinistro dietro e oltre il destro. Ti siedi, Ardha Matsyendrasana, inspiri, espiri, torsione a destra. Abbracci, la tua coscia destra, puoi sempre estendere la gamba sinistra sotto, anziché lasciarla piegata. Respira qui. Con ogni inspirazione la colonna vertebrale si allunga verso l'alto ed espirando le costole sinistre ruotano verso destra, l'ombelico rientra verso la schiena, crea spazio con il respiro. Inspirando, ritorni al centro, espiri dalla gola, ruoti a sinistra e ti inchini verso terra. Risali, premi sulla pianta del piede destro, liberi la gamba sinistra, ottanasana. Ti lasci cadere giù. Inspiri, stendi la schiena, Ardha, ottanasana. Espirando, ritorni giù, inspiri, snoccioli una vertebra dopo l'altra. Le braccia seguono il movimento e si sollevano verso l'alto. Espiri, mani al cuore, ottanasana. Piedi aperti come i tuoi fianchi, stendi la schiena e inspiri, polpastrelli a terra o sui blocchetti yoga. Questa volta il ginocchio destro che si flette un pochino più rispetto al sinistro. E inspirando, con la mano sinistra, segui il percorso del braccio destro e ti apri a sinistra. Da qui il piede destro si stacca da terra e fai un passo indietro. Indietreggi con la mano destra, la porti all'altezza del piede sinistro, torsione. Ginocchio destro a terra. Inspirando, attarai la terra verso il centro, sali in una bella torsione con le tue braccia aperte verso sinistra. E da qui con l'inspiro il braccio sinistro disegna un semicerchio e ti aiuta a guardare, a voltarti in avanti, le braccia si sollevano e spirito orsione a sinistra. E ancora, usa il respiro. Ancora due. Inspiri, sali. Espirando, mani a terra all'interno del piede sinistro che si sposta un pochino verso la linea esterna del tappetino. Accompagni il bacino in avanti e verso il basso. Porti lo sguardo oltre la spalla sinistra, come se volessi guardare indietro, bene indietro. Espiri, arda, anumana, stendi la gamba sinistra. Inspiri, avanzi, sguardo oltre la spalla sinistra. Espiri col ss. Arda, anumana. Ancora due. Ss. Espiri, avanzi. Mani a terra. Passo indietro tavola. Ginocchi a terra. Balasana. Inspirando, mento al petto, sali nella gobba del gatto, ma questa volta prosegui, vai con le spalle oltre i polsi, mantieni la retroversione del bacino, l'addome forte, poi fletti i gomiti indietro e contro il busto e scendi a terra. Ora, cobra, inspirando, espiri, balasana. Lo facciamo ancora due volte questo movimento, inspiri, schiena rotonda, sali, 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 retroversione del bacino, fletti i gomiti e scendi giù. Cobra, inspiri, espiri, balasana. E ancora in, espiri, cobra, inspirando, adho mukha svanasana, espirando. Cammini indietro con le mani verso i tuoi piedi. E questa volta il piede destro che fa un passo dietro e oltre il sinistro, fletti entrambe le ginocchia, abbandona giù la testa. Un'opzione potrebbe anche essere quella di incrociare le dita delle mani dietro la schiena, inspiri, ruoti le spalle indietro, ti allunghi un istante, poi espirando ti lasci andare giù. Lentamente sciogli, richiami l'ombelico verso la schiena e snoccioli una vertebra dopo l'altra. Magari allontani un pochino il piede destro, inspiri, sollevi il braccio destro ed espirando ti fletti verso sinistra. Ora scusate, morbido, morbido qui. E lentamente ritorni giù, fletti le ginocchia, lascia le gambe così come sono, cammini in avanti in una panca con le gambe incrociate. E poi ruoti verso destra e sei in vassi stasana con la gamba sinistra davanti alla destra. Braccio sinistro su, mano destra che spinge bene contro terra, addome forte. Il taglio esterno del piede destro è bello vivo. Ci aiuta a mantenere la posizione. E da qui sollevi, se vuoi provare questa transizione, la gamba sinistra portando il ginocchio sinistro verso di te, addome forte. Poi guardi verso l'inizio del tappetino, controlli il movimento, lo fai lentamente, passo avanti col piede sinistro, destro a terra di taglio. Inspiri, virabhadrasana 2, espiri qui. Inspirando, guerriero inverso, ti inclini indietro, espiri, gomito sinistro verso ginocchio sinistro. E inspiri, sali. Espiri. In. Espiri, ginocchio, gomito. In. Espiri. Inspirando, stendi la gamba sinistra, ti inclini indietro. Espiri, lascia le gambe estese, trigonasana, allunghi entrambi i lati del busto verso sinistra. Gambe forti, premi sul taglio esterno del piede destro. E senti di allungare il sacro verso il tallone destro. In. Sguardo al piede sinistro, ammorbidisci il ginocchio sinistro, mani a terra, passo col ginocchio destro, dietro e oltre il sinistro. Inspiri, stendi la schiena, espiri, torsione a sinistra. Puoi sempre stendere la gamba destra sotto. Ardha, mazzi, andrasana. Inspiri, torni al centro, espiri dalla gola, ruoti a destra e ti inchini verso terra. Ardha, risali, premi sulla pianta del piede sinistro, liberi la gamba destra. Uttanasana, ti lasci cadere giù. Inspirando, stendi la schiena, Ardha, Uttanasana. Ed espirando, magna a terra, due passi dietro, Adho Mukha Svanasana. Ginocchi a terra, Balasana. Glutei sui talloni, fronte a terra. Respira profondamente qui. Lentamente inspirando, snoccioi la colonna, risali. Stendi la schiena, ruoti i palmi delle mani verso l'alto, appoggiando i dorsi sulle cosce. Rilassa le tue spalle e ti prendi qualche istante per osservare il respiro, come lo senti. Allo spazio che hai creato con questa pratica. Le sensazioni sulla tua colonna vertebrale, sul corpo. Le sensazioni sulla tua mente, sui tuoi pensieri. Unisci i palmi delle mani davanti al cuore, inspiri. E espiri. E riapri gli occhi. Grazie. Namastè. Grazie per questa breve pratica insieme. Ovviamente potresti portarti in Shavasana e rimanere in Shavasana a rilassarti per tutto il tempo che ti desideri. Io ti ringrazio per avere condiviso la tua pratica e il tuo tempo con me. E come sempre ti invito a dare un'occhiata e a provare la mia scuola di yoga online, la mia yoga room, dove trovi tante lezioni da provare, da esplorare. Tante lezioni diverse, di diversa intensità e anche di diversa durata. Anche lezioni più lunghe per approfondire la tua pratica. Lezioni complete. Ti metto il link nell'info box qui del video e puoi provarla gratuitamente per sette giorni. Ci vediamo sul tappetino. Ciao!